A Bari il consigliere regionale di sinistra italiana Mino Borraccino ha tenuto una conferenza stampa sull'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera che la regione Puglia si appresta a varare. Vediamo il servizio. Un provvedimento disciplinare che potrebbe configurare addirittura una grave lesione al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana. L'azienda di ristorazione collettiva, la Disa S.p.A., avrebbe infatti sospeso tre suoi dipendenti occupati per sulla menza ospedaliera di Taranto per il solo fatto di aver condiviso su Facebook un articolo pubblicato da una testata giornalistica locale riportante le dichiarazioni di un dirigente sindacale sulla gara unica per l'affidamento del servizio di ristorazione per tutte le strutture ospedaliere della Puglia. Dinanzi a questa situazione il consigliere regionale di sinistra italiana, Mino Borraccino, ha tenuto un incontro per evidenziare quelle che sono le perplessità condivise dal partito in merito proprio alla gara unica per l'affidamento del servizio di ristorazione per tutte le asla pugliesi. Abbiamo chiesto al Presidente Emiliano di poter applicare un surplus di attenzione su questo tema, abbiamo presentato ieri un'altra interrogazione oltre a quella sulle modalità della gara che già avevamo presentata a ottobre dello scorso anno e poi ripresentata a gennaio, ne abbiamo presentato una ieri nella quale chiedevamo notizie rispetto a questi lavoratori licenziati e se il Presidente Emiliano non ritiene di dover censurare questo atteggiamento di un'azienda che ha degli appalti con il servizio sanitario regionale rispetto a questo comportamento avuto nei confronti ai lavoratori. Ovviamente in questa conferenza stampa abbiamo continuato a porre l'accento sul tema del cook and chili che dal nostro punto di vista è completamente sbagliato, vale a dire i pasti precotti da servire ai pazienti, ai malati ricoverati negli ospedali, continuiamo a porre il problema dei centri cottura che su 45 ne sono previsti la chiusura di 38 quindi chiuderebbe l'80% dei centri cottura e abbiamo posto anche il tema dell'internalizzazione non nell'immediato ma sicuramente come un obiettivo strategico a cui guardare visto risultati virtuosi che già l'internalizzazione dei servizi nelle Asra pugliesi ha portato anche in termini di servizi ma anche di risparmio per le economie della Regione Puglia in questo decennio quando raggiunta vendola e l'assessore Tommaso Fiore portarono avanti il processo dell'internalizzazione che ha coinvolto circa 5.000 lavoratori. E ci spostiamo a Taranto a Bagarre in cui...